A preso il Via Crotone, l'Open Space, un progetto che punta al recupero degli spazi urbani, riguarda i giovani dai 16 ai 24 anni, in particolare l'esperienza è dedicata ai net, le persone non occupate che non studiano. Sentiamo Ugo Rendacia. Abbiamo organizzato un corso, ci saranno delle lezioni frontali con i ragazzi che vanno dai 16 ai 24 anni, appunto per far capire che attraverso l'arte e questa street art si possono migliorare i luoghi, si può partecipare e abbellire appunto la città. E' l'arte ad unire a Crotone sport e beni comuni con due laboratori che alimentano uno dei campi di azione scelti dalla WISP, un'on italiana sport per tutti, laboratori dedicati ai giovani che guardano in particolare ai ragazzi senza lavoro che non studiano più. Lo sport in questo momento ha bisogno di creare nuove relazioni, di far creare nuove relazioni tra i giovani e la società in cui vivono, perché attraverso lo sport si socializza, si sta insieme, si superano difficoltà e si possono fare delle cose utili per la nostra città. Con il nome di Open Space si prende vita nel centro di Crotone, uno spazio che può tornare a brillare grazie ai ragazzi, uno spazio per troppo tempo terra di nessuno, dove poter alimentare la passione per l'arte e lo sport. Il combito più difficile sarà mantenere aperto un luogo dove il ripensamento degli spazi urbani e la valorizzazione del solo pubblico possa diventare un modo per contrastare l'emarginazione giovanile. Noi vogliamo lavorare per rimanere, per iniziare, per fare delle cose e fare in modo che questo diventi un punto di aggregazione centrale per i giovani, e non solo per i giovani della nostra città. Nelle prossime settimane saranno decorate le pareti esterne dell'Open Space. L'intera area poi vedrà la realizzazione di strutture in ferro e legno realizzate dai ragazzi.